Giovanni Zopas, CEO di Tecnica Group Giovanni Zopas, CEO di Tecnica Group Grazie per l'invito, buongiorno a tutti Possiamo dire che nella sport siamo riusciti a fare quello che non siamo riusciti a fare nel lusso cioè di fare un gruppo di brand nel settore tecnico? È una bella considerazione, noi effettivamente siamo una portfolio company una portfolio company che ha al suo interno, nel suo portafoglio, dei marchi di assoluta rilevanza mondiale con questi marchi abbiamo quasi 100 paesi nel mondo un dei risultati che nel 22 hanno avuto il loro massimo storico, quindi nella storia dell'azienda Vediamo qui, sono 561 milioni e un EBITDA del quasi 17% 17% e sono tutti i marchi che hanno una storia prima qualcuno parlava della veridicità dei marchi, della loro forza legata alla storia è assolutamente vero perché? Perché questo è qualcosa che ha a che fare con quello che sta all'interno delle scelte che un consumatore fa quando deve scegliere un prodotto è secondo me una cosa molto interessante perché noi in realtà con l'esclusione di Moonboot che sta entrando dentro un mondo che è un po' più legato al fashion per il resto i nostri sono marchi che hanno a che fare soprattutto con la vita all'aria aperta attiva e da questo punto di vista sono solo in parte legati a dei concetti di lifestyle ma lo sono perché per poter avere successo è importante dal nostro punto di vista tener conto dei tre assi che sono fondamentali da una parte c'è un tema che è legato in modo molto importante al prodotto dall'altro punto di vista c'è però anche un tema che è il servizio ne parlavamo prima chi va ad acquistare dei prodotti che stanno sotto questi ombrelli di marchi chiede sempre più servizio e c'è un ultimo punto che oggi è stato citato poco ma forse per ovvi motivi ma che nel nostro caso è importante ma ritengo lo diventerà per tutti i marchi che è il tema della sostenibilità per noi che siamo legati appunto a un mondo della vita all'aria aperta attiva è importante per i consumatori ritrovarsi all'interno di un concetto di sostenibilità con uno dei nostri, due dei nostri marchi in realtà tecnica e nordica per gli scarponi ancora tre anni fa abbiamo lanciato un programma che si chiama Recycle Your Boots in base al quale abbiamo creato un network di negozi che ritirano scarponi di qualunque marca e noi ci occupiamo dopo il ritiro di andare a prolungare la vita dei materiali separandoli e rimettendoli all'interno dei circuiti produttivi questa è una cosa che andremo a fare che stiamo cominciando a fare per tutti i marchi e per tutti i prodotti tutte queste cose assieme diciamo che stanno cominciando a dare i loro frutti perché effettivamente l'engagement che c'è da parte del consumatore finale è un engagement che è molto importante voi siete, come vediamo i numeri, insomma avete avuto questi ultimi tre anni una crescita costante è più una crescita dovuta a un aumento delle quote di mercato o perché il famoso trend all'aria aperta è un trend che sta crescendo e che vedete in crescita? io direi che la crescita del 21 è stata una crescita di trend quindi anche noi abbiamo beneficiato del trend che c'è stato nel post pandemia mentre invece nel 22 per la maggior parte della crescita che è stata anche la più sostanziosa noi riteniamo che ci sia stata un'acquisizione di quote di mercato ovviamente questo è un mercato che è abbastanza grigio quindi mentre nel tessile magari ci sono informazioni molto più forti più pregnanti, più chiare qui in realtà quello che uno capisce lo capisce deviso quando entra nei negozi e comincia a vedere qual è la quota che ai propri marchi, ai propri prodotti viene insegnata nelle vetrine, sulle shares e da questo punto di vista sicuramente delle quote di mercato le abbiamo guadagnate il che è stato frutto oltre che del prodotto e del servizio anche di un rapporto di vicinanza con il trade estremamente forte al rapporto sul quale stiamo andando ad investire sempre di più anche digitalizzando col trade proprio col trade per noi è sicuramente, noi siamo dei wholesaler guardiamo ovviamente stiamo investendo molto sulla digitalizzazione per aprire a un rapporto con il consumatore finale però per noi il trade è ancora importante e ovviamente dobbiamo guardare tutto assieme in modo olistico perché io uso sempre di dire che mentre una volta il consumatore entrava in un negozio magari particolarmente in negozi con prodotti tecnici per chiedere consigli oggi la maggior parte dei consumatori entra in un negozio e ne sa probabilmente più del negoziante stesso perché le opportunità che ha avuto di informarsi e la voglia che ha avuto di informarsi è grande quindi da questo punto di vista la capacità di tenere questa triade il wholesaler, il trader, il consumatore assieme è sempre più importante ma voi fate anche e-commerce o non lo fate? allora, noi abbiamo all'incirca un 10% delle nostre vendite che avviene attraverso e-commerce per la maggior parte ancora attraverso piattaforme di terzi stiamo facendo vuol dire che il vostro cliente wholesale ha il suo e-commerce sì, esattamente e stiamo però sviluppando internamente una nostra piattaforma sulla quale far poi risiedere tutti i nostri marchi sapendo anche questa è una cosa di cui parlavamo prima che è molto interessante sapendo che per alcuni prodotti ci sono ad oggi dei limiti da un punto di vista della scelta perché? perché la prova fisica del prodotto diventa comunque un fatto essenziale nell'acquisto però è molto importante creare l'engagement dare le informazioni proprio per i motivi che dicevo prima e dando un po' uno spaccato di questo fatturato quanto è attrezzo e quanto è scarpa abbigliamento? diciamo che scarpa abbigliamento noi non ne abbiamo diciamo che la scarpa copre all'incirca il 50% quindi la scappa outdoor scopre in circa il 50% il resto è attrezzo dove per un 45% è l'attrezzo invernale il resto è attrezzo diciamo primavera e estate quindi tennis o altri? no, rollerblading a rollerblading in prospettiva questo rapporto pensate che rimanga così? no, in questo rapporto noi stiamo lavorando ovviamente per far crescere il nostro gruppo e nel driver della crescita che abbiamo la parte outdoor è quella che riteniamo avrà la parte più importante, la calzatura per il futuro e pensate di entrare anche nell'abbigliamento o no? no, al momento no noi ci stiamo focalizzando su quello che diciamo così è il nostro core business se è il mestiere che sappiamo fare e su quello vogliamo andare a fondo perché riteniamo che a livello di mercati di canali e anche di segmentazione di prodotto ci siano tante opportunità segmentazione del prodotto per noi è importantissima lavoriamo per la maggior parte con marchi e prodotti che stanno su mercati maturi quindi segmentare diventa un obbligo segmentare banalmente vuol dire andare a fare una scarpa per la donna che abbia tutti gli aspetti che rispondono alle richieste che ha quel consumatore cioè fino a un po' di anni fa quando si pensava al prodotto femminile si pensava alla paletta colori oggi non è più così ovviamente bisogna cominciare a pensare al fatto che ci sono delle esigenze di fitting ad esempio che sono diverse e quindi da questo punto di vista bisogna studiare analizzare e poi trovare anche il modo per arrivare al consumatore in modo adeguato e tra le varie marchi avete Monbut che come dicevi è l'unico che ha un coté fashion assolutamente oggi che fatturato fa Monbut? Monbut, beh questa è una storia molto interessante perché tre anni fa faceva 10 milioni di fatturato quest'anno arriverà verso i 50 milioni di fatturato e ha ancora degli spazi incredibili di crescita tra l'altro stamattina il fondatore di Palm Angels dava il suo tributo a Remo Ruffini come persona visionaria la persona che segue Monbut da noi viene dalla stessa scuola si chiama Mirko Massignan e ha fatto un lavoro incredibile da un punto di vista del riposizionamento di un marchio che era nato ancora negli anni 60 voi sapete che è uno dei pochi marchi italiani che stanno al MoMA marchio prodotto che sta al MoMA dovuto alla sua invenzione diciamo così l'idea nasce da un'idea di Giancarlo Zanatta che è il fondatore del gruppo vedendo l'allunaggio è un prodotto che ha questa caratteristica è multitaglia e non ha una distinzione tra il destro e il sinistro allora voi pensate nella scarpa è una cosa veramente astonishing è una cosa incredibile e lo ha riposizionato andando verso una distribuzione che è sempre più moda e sempre meno articolo sportivo dopo sci quindi questa attività qui tra l'altro gli uffici li abbiamo portati a Milano solo di Mombut solo di Mombut al di là del beneficio che ci porta ovviamente da un punto di vista il fatturato e i risultati ci permette di essere in contatto con un mondo che è quello della moda che è quello dello stile che non sarebbe il nostro mondo naturale ma con il quale noi ovviamente viaggiamo diciamo in parallelo perché? perché lo stesso consumatore che compra Mombut è quello che poi sceglie gli scarponi gli sci da scarpa da hiking o da climbing quindi è impossibile pensare che la testa del consumatore abbia una scelta fashion quando compra un prodotto una scelta non fashion quando nessuno sceglie un altro quindi queste contaminazioni servono anche per creare idee e attitudine e Mombut ma quanto è noto in Italia è super noto ma è un marchio che ha anche una notorietà internazionale? è grandissimo grandissimo e beneficia anche del fatto che non è una banalità di avere un prodotto iconico che è quello che io penso che qualunque marchio desidererebbe avere perché è vero che il rinnovamento del prodotto è importante però è anche vero che come si suol dire il classico fa i soldi e il fashion li spende mettiamola così quindi poter contare anche su questo è una cosa molto importante peraltro nei piani di sviluppo di Mombut c'è una diversificazione sia da un punto di vista del genere nel senso che stiamo andando a coprire sempre di più sia la parte bambino ma anche uomo e donna e dalla prossima stagione cominceremo anche a entrare in un mondo che è meno invernale e più primavera-autunno non estate ancora ma sicuramente primavera-autunno sempre solo scarpe diciamo sì sì no in questo momento qui il nostro focus è sulle scarpe poi è ovvio che è un marchio che ha una potenza talmente grande per cui mi sentirei di dire che per il futuro potrebbe avere anche delle estensioni di categoria e retail invece come sono allora retail inteso come retail fisico anche molto banalmente non avendo l'abbigliamento per noi non è sicuramente nell'agenda no 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 in questo momento qui no e con 93 milioni di EBITDA nel 22 23 come credo ma il 23 diciamo sarà una stabilizzazione rispetto al 22 diciamo che noi siamo stati molto agili e molto flessibili a prendere tutte le opportunità che ci ha dato il 22 e devo dire che siamo stati abbastanza agili abbastanza flessibili da riuscire a parare tutti i problemi che il 23 ci ha posto e ci sta ponendo che non è una cosa banale perché ovviamente come consumatori noi vediamo tutti i prodotti che stanno dentro i negozi però sappiamo anche che se le aziende non si sono preparate in modo adeguato oltre che nei negozi lo stock sta anche presso le aziende che non è la cosa più bella del mondo vista anche la crescita dei tassi di interesse di cui stiamo soffrendo in questo momento però diciamo che comunque con 90 milioni di EBITDA l'azienda è solida e genera cassa non vi viene voglia di il mondo va verso l'aggregazione di acquisire altri brand altre realtà per accelerare però in questo momento qui devo dire la verità che noi vogliamo andare a fondo nella capacità di utilizzare i brand che abbiamo che hanno ancora degli spazi vuoi per mercati vuoi per canali e vuoi anche per categorie di prodotto che riteniamo importanti per poter crescere in modo sostanziale e il vostro piano a 3-5 anni prevede il billion o ancora se le tranquilli il billion è una cifra è una cifra importante avete due azionisti la famiglia e un socio di minoranza finanziaria diciamo che saranno tutti contenti credo per adesso e che obiettivi si sono dati i tuoi allora gli obiettivi allora il primo obiettivo è di avere una crescita sana nel senso che a noi crescere per crescere non interessa ci interessa crescere tenendo il ratio che abbiamo in termini di redditività che vuol dire avere dei piani solidi che vuol dire definire cosa che abbiamo fatto quali sono i mercati quali sono i canali di nuovo le linee di prodotto nuovi di aggiungere per seguirli e eseguirli i piani perché poi il mondo è pieno di piani poi la difficoltà è realizzarli ecco quindi il nostro obiettivo è questo qui chiarissimo quindi avanti avanti come treni benissimo senti Giovanni ti ringrazio complimenti grazie ancora 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 grazie ancora